ciao sono enrico e in questa puntata di il canale di enrico presenta sono in compagnia di andrea del profilo instagram rainbow cinema tanto ciao rainbow ciao andrea grazie grazie a ricco dell'invito niente mi fa piacere da un po che volevo farti questa intervista dato che in instagram e da qualche tempo anche su twitch porti molti argomenti interessanti sul cinematografico tutti occupi di cinema a 360 gradi con un focus anche sul cinema lgbt sì infatti ci sono tantissimi film dove vedi sotto nella nella dicitura del hashtag proprio lgbtq plus perché ne parlo spesso anche tipo nei film natalizi ho parlato di film matematica quindi inserisco sempre il nome del tuo profilo nasce da questo sì no diciamo che ha un doppio significato perché rainbow sì è per quello ovviamente perché io facendo parte della comunità è anche per quello però è anche per perché volevo parlare di tutti i colori del cinema perché molto spesso ci sono pagine instagram che sono relegate a dei generi per esempio horror o nerd o fantascienza io volevo fare invece una cosa dove io potevo parlare di qualsiasi genere di film e dare la possibilità alla gente anche tramite live di dire la propria e quindi con rispetto di poter ascoltare i pari anche diversi degli altri e quindi tutti i colori del cinema ma anche delle opinioni degli altri quando ti è nata l'idea di questo profilo? allora diciamo che dopo il covid poi c'è stato un periodo un po' difficile dove non ho lavorato molto non stavo lavorando e quindi per combattere un po' la depressione e la solitudine diciamo solitudine non come intesa come amicizia e tutto nel senso che non lavorando mi sentivo che purtroppo mi mancava qualcosa non mi potevo togliere gli sfizi non ero sereno con me stesso e quindi ho detto devo fare qualcosa che mi fa stare bene siccome il cinema come anche la musica però forse il cinema leggermente di più negli ultimi anni vabbè già da quando ero ragazzino comunque è proprio una passione che ho dentro fortissima ho detto voglio dedicarmi a dire la mia cosa che ho già fatto facevo in passato su delle pagine di facebook su dei giornali tipo scrivevo per il giornale di Puglia delle recensioni per tv serial delle recensioni di serie quindi già lo facevo però volevo una cosa tutta mia dove potevo essere totalmente me libero e quindi ho deciso di aprire questa pagina poi per fortuna è arrivato anche il lavoro nel frattempo qualche mese dopo che ho iniziato la pagina e quindi poi tutto riassestato è arrivata la serenità e poi anche la soddisfazione della pagina che comunque è arrivata a quasi 3000 follower in un anno e sono stato invitato tre volte a RTL 125 quindi comunque una bella soddisfazione dato che l'hai citato tu stesso come è avvenuta la prima partecipazione a RTL? sono stato contattato da loro e ti spiego anche perché loro probabilmente siccome hanno intervistato in passato una creators che era tra le mie amicizie di instagram probabilmente loro hanno spulciato, lei è molto più esperta, è ospitata negli eventi, i festival posso fare anche il nome, si chiama Sara Lucci e praticamente probabilmente quando hanno ospitato lei poi si sono messi a cercare un po' tra i suoi follower delle pagine probabilmente spulciando le pagine mi hanno trovato e la cosa bella è stata che quando mi hanno ospitato effettivamente veramente avevano letto il mio profilo, le mie recensioni perché sapevano di quello di cui parlavano non è che l'hanno scelta a caso quindi proprio mi hanno chiamato per la prima volta proprio in maniera specifica sul cinema tematica LGBTQI plus quindi per le prime due volte ho parlato di quello e poi l'ultima volta abbiamo parlato un po' dei film del 2023 e dei film in arrivo del 2024 Ah, ok, ok, interessante ma per che programma specifico di RTL? Allora, la settima arte che va in onda su RTL 125 News esce anche in televisione, anche sui siti la mia prima intervista è disponibile anche sul sito ufficiale di RTL se tu scrivi settima arte o scrivi a Andrea Lenzo gli dovrebbe uscire perché ho provato qualche giorno fa usciva, le altre purtroppo non le caricano tutte questo programma praticamente si occupa di invitare persone esperte ma poco note di un ambiente determinato quindi chiamano gli esperti di fumetti, di arte, di quadri, di cinema, di musica di pittura, di cucina che però lavorano sui social e non sono molto noti quindi aiutano questi nuovi volti a crescere, a farsi conoscere infatti non ti nascondo che l'ultima volta che ho fatto la diretta poi nel giro di due giorni sono cresciuto di, non so, tipo forse da 2600 follower, questo è il 2730 quindi comunque mi ha aiutato la pubblicità ecco anche anche perché parliamo comunque di una radio grossa una piccola radio che sento un po' quindi sì, bene bene, sono contento e facciamo un attimo un escursus sul tuo, dato che ce l'ho aperto sul tuo profilo di musica ti spiego, il profilo di musica è un po' più complicato perché non riesco a salire troppo dietro e poi sinceramente ho paura che quello di cui voglio parlare perché io amo la musica molto vecchia quindi dovrei parlare di, volevo fare una pagina che parlasse raccontasse le biografie o comunque le carriere di grandi icone della musica, del passato come non so, Kurt Cobain oppure i Cranberries o i Beatles o Madonna eccetera però ho paura che cioè sono arrivato a più di 300 follower non so neanche io come perché molti erano quelli che mi seguivano la pagina di cinema però vedo che scritto la perché non ho il tempo di aggiornarla cerco di mettere delle cose nuove però ha proprio poche visualizzazioni quindi è una cosa che appena avrò più tempo tipo adesso mi dedicherò su Sanremo e farò anche credo una diretta con qualche altra pagina però non lo so ci sto dando poca attenzione ho paura che il format ce l'idea mia non sia vincente sia troppo datata diciamo per Instagram però purtroppo una forte carenza sulla musica attuale che non amo molto e quindi il fatto di non parlare di musica attuale secondo me è un deterrente soprattutto su Instagram che ci sono tanti ragazzi tanti giovani quindi non lo so appena riesci a trovare la formula giusta come nel canale principale riuscirai a portare su anche i follower anche di là forse è proprio l'ambito musicale che su Instagram non è che lo vedo tantissimo infatti ho trovato pochissime pagine che parlano di musica cioè ci sono pagine che fanno solo delle storie sulle musiche del passato ma senza raccontare più di tanto oppure non ci sono pagine come i creators di cinema creators di musica che adesso parlano dei cd in uscito recensiscono vecchi album non ne ho trovate sinceramente ce ne sono poche a me compare qualcosa ma sono principalmente negozi di dischi che tendono a vendere i loro prodotti quindi magari parlano qualcosina a riguardo del vinile o cd in uscita però non raccontano poi storie legate a personaggi vari sì forse non so forse Instagram in questo è carente non è la piattaforma ideale però tentare non nuoce nel senso no 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 certo no vabbè ma non ti preoccupare quest'anno mi concentrerò molto anche su quella cercherò di vediamo un po' me la studierò bene se andrà se non andrà bene pazienza cioè ci ho provato sì diciamo che adesso conserremo alle porte magari una spinta per farti crescere un po' perché se sei dietro nel periodo di Instagram tra storie e post qualcosina anche perché lì comunque parliamo di canzoni attuali sì quindi io piccola parentesi farò io tutti gli anni siccome collaboro con una radio web pugliese dove faccio diverse interviste con attori, doppiatori cantanti io ogni anno faccio il dopo festival diciamo che dopo la fine di Sanremo insieme a degli ospiti conosciuti parliamo del festival e quest'anno come l'anno scorso avrò ospite Rossella Erra che è la diciamo l'opinionista la giudice di Barando con le stelle e poi ci sarà anche Marta Cagnola che è una giornalista famosissima sta tutti i giorni in televisione perché praticamente è una delle più grandi esperte di Sanremo praticamente si occupa di Sanremo dal 2001 e quindi lei è una grande giornalista e l'anno scorso abbiamo fatto una live che ha avuto ricordo c'erano più di 400 persone online quindi è andata molto bene spero che anche quest'anno vada bene complimenti complimenti speriamo e quindi gli ho fatto l'in bocca al lupo ed è stato molto bello infatti quando poi ho sentito della nomination gli ho fatto anche i complimenti e gli mi ha ringraziato e devo dire che ho fatto delle interviste molto belle con attori di fiction con addirittura personaggi del passato tu che hai più o meno la mia età ho intervistato anche l'attore che vive in America di Kiss Milicia quello che faceva Satomi non so se lo ricordo sì 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 infatti se vuoi rivedere qualche intervista che ho fatto la pagina si chiama Civico 93 sì poi infatti l'avevo vista in descrizione lascerò poi comunque in descrizione al podcast giusto per curiosità se ti fa piacere vedere queste interviste che alcune sono veramente molto belle sì sì ma volentieri la guarderò molto molto volentieri quello che me l'hai detto anzi avrei dovuto farlo prima di farti l'intervista in realtà no no però non ha avuto tempo di spulciare tra le tue pagine e tu mi dicevi anche in privato che stai organizzando un Cile Forum nella tua città o sbaglio? sì allora praticamente siccome il cinema del mio paese io ci vado da quando ero proprio bambino sono diventato ovviamente molto amico alla proprietaria e siccome diciamo lei si fida molto dei miei gusti e c'è questo questo cineforum diciamo che fanno giovedì si chiama giovedì dei sei e praticamente le mette sempre film d'autore ovviamente e mi chiede sempre una collaborazione quest'anno ancora di più mi ha lasciato proprio carta bianca ha detto scegli tu i film in base anche a un mix di nazionalità quindi ho dovuto prendere un po' di film europei un po' di film italiani un po' di film americani e ho fatto un bel mix sono uscite una ventina di film infatti saranno divisi in due rassegne una parte parte proprio se non sbaglio settimana prossima dovrebbe essere il primo il film di Woody Allen The Chance dovrebbe essere il primo se non sbaglio e poi ci sarà un'altra alla fine di dieci ci sarà un'altra che poi arriverà fino alla chiusura del cinema che a noi chiude di solito i primi di giugno quindi ci saranno queste due resti e ci ho inserito un po' film che purtroppo sono stati cioè sono poco conosciuti e secondo me meritano di essere scoperti ho messo sia film che ho visto che film invece che ho la curiosità di vedere quindi era l'unico modo per poterli vedere inserirli nella rassegna eh beh sì effettivamente sì perché trattato di film de se purtroppo in multisala non li portano un caso particolare è quello di Woody Allen ma perché parliamo di Woody Allen mi avevi citato che porterai anche Deserto Particular che io ho tutto il modo di vedere ho inserito Deserto Particular è un viaggio in Giappone sono gli ultimi film che ho inserito eh sì Past Lives poi ci sarà ehm oddio che ci sarà più che non ricordo eh cioè sono tipo Mimì il Principe delle Tenebre nel cinema italiano eh Patagonia che è un altro film tematica LGBTQ plus e un altro film che sarà uno dei primi che verrà proiettati che è una storia tematica che è tratto da una storia vira io credo che tu conosci la storia di quel ragazzo omosessuale che ha adottato la bambina Down sì l'ho visto il film eh il film e ho inserito anche il film nata per te e quindi insomma ho fatto un bel mix ci ho messo anche One Life con Anthony Hopkins come film americano insomma ho fatto un bel mix spero Anatomia di una caduta insomma non vedo l'ora che parte questa rassegna e vabbè hai scelto comunque mi avevi fatto anche tutta la lista che adesso non ho sottomato era bella lunga tra l'altro qua sfogliando il tuo profilo vedo che hai visto Escort Boys come ti è sembrato? allora mi è piaciuta moltissimo io ti giuro non gli davo un centesimo ho detto ma sarà non so un Magic Mike alla francese così e quella invece devo dire che mi ha veramente colpito perché tratta delle tematiche molto interessanti con un'ironia anche una sensualità molto bella gli attori sono dei fighi da paura quindi è anche un bel vedere però è molto ben scritto e c'è anche delle parti che sembrano quasi un thriller perché ci sono delle cose da risolvere insomma delle storie molto particolari che riguardano soldi giri particolari è molto bello c'è anche una storia non posso spogliere troppo che però anticipa la tematica LGBTQ plus che sicuramente sarà ampliata nella seconda stagione e poi la cosa che mi è piaciuta tantissimo che ci sono tantissime guest star in ogni puntata c'è più o meno uno o due donne protagoniste perché racconta di queste donne anche adulte che prendono questi escort per passare che poi è bello perché hanno delle storie molto particolari non le prendono solo per sesso ma li prendono anche per motivi emotivi e anche più profondi di quello che uno può sembrare e ci sono personaggi come Carol Bouquet Amanda Lear Caterina Murrino Catherine Langford di Gossip Girl cioè attrici meravigliose provenienti da tutto il cinema c'è c'è l'americana c'è la francese c'è l'italiana quindi è molto bello questo è una serie veramente che mi ha stupito tanto ok allora mi assegno che mi aveva dal trailer mi aveva che dura poco molto scortevole molto scortevole parlando di serie della tematica LGBTQ plus mi raccomando fatevi un regalo fatelo per il vostro bene e guardatevi Has Been Hotel su Prime di cui sono usciti i primi quattro episodi e usciranno nelle prossime due settimane gli altri quattro episodi è una serie a tematica ci sono personaggi gay lesbiche transessuali ha un linguaggio molto scurrile è bellissima e poi c'è in contraposizione questo questo cinismo questo linguaggio così sporco con delle canzoni quasi diciamo disneyane quindi è qualcosa di veramente unico è che a me ha rapito il cuore sono in fissa con le canzoni da giorni ed è una serie veramente bellissima e soprattutto vedetela in italiano perché finalmente è la dimostrazione che abbiamo dei doppiatori italiani eccezionali perché il doppiaggio fa paura cioè addirittura sono arrivati complimenti che vedevo io su youtube di gente straniera che apprezzava più le trasposizioni italiane che non le straniere un esempio c'è una canzone dove questo personaggio questo porno star demone porno star transgender diciamo racconta del fatto che lui è legato a questo pappone che lo ha costretto a fare questi film porno e se ne vuole liberare ma lui è come un velino non riesce a liberarsene nella versione inglese è cantata normalmente bene tutto quanto l'italia il doppiatore italiano riccardo suarez ci ha aggiunto verso il finale una parte con la voce strozzata col magone che ha reso la canzone ancora più bella di quella che era e a molti hanno fatto i complimenti per questa aggiunta totalmente personale attoriale e se vedi il titolo di Prime ti rendi conto di loro quando doppiano recitano cioè l'attore si muoveva e si atteggiava come il personaggio è una serie meravigliosa non la perdete hai visto per caso anche Gigolo per caso su Prime Video? no è per gli italiani giusto sì 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 io purtroppo ho un po' di problemi con i prodotti italiani ok non dico che li snobbo però li tengo per come seconda opzione quindi non mi viene spontaneo da vedere un prodotto italiano è raro il caso infatti se tu vedi le mie recensioni ci sono pochissimi film italiani alcuni li ho messi tipo c'è un film che ho visto di recente su Prime Video non ricordo il titolo non ho memoria però con Casa di Lego la ragazza che ha vinto X Factor che è un film è un camminco veggi che mi è piaciuto molto poi ci sta il film Stranizza da Muri di Fiorello quindi qualcosina insomma domani andrò a vedere Enea e quindi diciamo qualcosa di italiano lo porto però molto meno molto centellinato insomma un po' più centellinato è un fatto legato alle storie quindi cioè proprio le storie e i generi mi attirano meno del cinema internazionale mentre sono molto legato al cinema italiano di una volta quello di una volta quello di Anna Magnani di Fellini di Totò e quindi di Zeffirelli quella è un'altra un'altra storia quello di cinema moderno un po' meno ecco io sa poco si punta molto più sulle commedie leggerissime o qualche film un po' troppo pesante i film di genere ci sono io che vedo cinematografo mi rendo conto che ci sono tanti film italiani di genere di grande qualità che escono ma che nessuno conosce perché proprio escono in poche copie in poche sale e mi dispiace che non riesco a recuperarli perché non c'è modo purtroppo la distribuzione italiana è fallace certi titoli non verranno mai portati in un video si spera magari in qualche servizio streaming ma con questo io Andrea ti ringrazio grazie a te ti ringrazio in descrizione troverete tutti i link ai suoi profili e alle collaborazioni che ha fatto con la radio e con la radio locale vi invito a mettere like al video a condividerlo a iscrivervi al canale e alla prossima ciao 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 ciao